questo programma è offerto da per me orecchietta e civili rapa per lei signore a me ha fatto un controllo dell'udito io ho risolto con amplifon ehi mario ciao olino va meglio ora altro che gratis controllo dell'udito e prova per 30 giorni se sei di meglio vivi meglio amplifon sostiene l'unicef per ogni primo controllo dell'udito amplifon dona un euro alla campagna dell'unicef vogliamo zero contro la mortalità infantile questa sera si svolgerà il terzo saggio scolastico della scuola di danza new ballet la new ballet è da anni una fermata scuola di danza dove emmanuele concetta ragnolo svolgono la loro attività instancabili grazie a tutti ora i ragazzi possono andare a prepararsi lo spettacolo inizia lauretta salvatore bracchitta chiara ravalli daniele campo viviana smiraglia raffaele di stefano donatella failla adele di grandi claudia di stefano gianni barrera elisa licitra giorgio e bracchitta lorenza ecco a voi il balzer il messaggero grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.